Una dipendente della ASL Toscana Sud-Est, in particolare un'operatrice socio-sanitaria in forza ad Arezzo, aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook affermazioni inerenti al Covid e per questo aveva ricevuto una sanzione disciplinare. La donna, commentando una notizia sui tamponi ai bambini, aveva scritto «Fatevelo nel vostro C, puntini puntini, un bel tampone, ma non toccate i bambini». La ASL l'aveva sospesa per sei mesi, senza stipendio. Una sanzione tanto ingiusta quanto sproporzionata, secondo il giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo, che aveva reintegrato la donna. Oggi la decisione da parte dell'azienda sanitaria di impugnare, di fronte alla sezione del lavoro della Corte d'Appello di Firenze, la sentenza. Le affermazioni apparse su Facebook, afferma l'azienda sanitaria, integrano un comportamento in violazione degli obblighi del dipendente, sanciti dalle norme contrattuali e dal codice di comportamento aziendale.